Siamo a Magenta insieme a Marco Latuada, presidente della Calla, che ha avuto un'anzi più idee veramente interessanti per questa Civil Week, che rappresentano il modo che normalmente hai di lavorare in rete con tutte le realtà del terzo settore del territorio. Raccontaci un po'. Le idee che abbiamo avuto sono due. Questa, che partirà da qui fra pochi minuti, siamo in centro a Magenta, è un percorso libero per Magenta, dedicato soprattutto ai ragazzi, alla scoperta del volontariato. Si chiama Alla ricerca del tesoro nascosto. I ragazzi avranno una mappa con l'ubicazione delle associazioni che hanno aderito, sono 15, e andranno a incontrare i volontari, faranno loro delle domande, riceveranno qualcosa, sorpresa, non spoileriamo, e poi concluderanno il loro percorso a Casa Giacobbe, dove lì avranno un piccolo rinfresco e avranno un premio finale. In mano avranno una credenziale, la credenziale del pellegrino, simile a quella del Cammino di Santiago o della Via Francigena, sulla quale credenziale le associazioni metteranno un timbro e loro prenderanno appunti. Quindi un modo per insegnare ai giovanissimi che cos'è il volontariato. Esatto. Per te che cos'è il volontariato? Per me il volontariato è una passione, perché da pensionato ci dedichiamo a questo con la nostra associazione, si chiama La Calla. La Calla non si occupa di giardinaggio, ma bensì di fornire gratuitamente alle associazioni no profit, soprattutto del settore socioassistenziale, delle soluzioni informatiche gratuite. Qui a Magenta ci sono due associazioni che utilizzano le nostre web app, chiamiamole così. Abbiamo lasciato in sospeso la seconda idea che hai avuto per questa Civil Week. Sì, la seconda idea riguarda proprio la nostra attività e con una quarta dell'Istituto Superiore in Audi faremo un laboratorio esperienziale dove i ragazzi impareranno i rudimenti, ma proprio i rudimenti perché in poche ore non si può fare di più, del project management, cioè l'attività che noi facciamo prima di sviluppare una web app. Abbiamo un case study, come così si dice, reale, e loro impareranno ad analizzarlo, vedere chi sono gli attori, qual è il processo che si deve svolgere e alla fine, sorpresa adesso lo possiamo dire, faremo vedere cosa abbiamo realizzato noi in questo, l'app che abbiamo fatto per questo caso reale, che è a Portenone. Senti, l'ultima domanda, so che non è la prima volta che partecipi e partecipate alla Civil Week, che cosa vi piace di questa iniziativa e di questa opportunità? Ci piace perché mette in campo la creatività, perché devi inventare delle cose. L'iniziativa di oggi, dove i ragazzi andranno a scoprire il volontariato, ha una parola d'ordine che ho dato alle associazioni. Meravigliateli! E beh, con questa non possiamo far altro che augurarvi a tutti buona Civil Week! Grazie e buona Civil Week a tutti!